Allora io direi di cominciare proprio con la firma, la firma in realtà come al solito è una firma digitale. Firma digitale del protocollo d'intesa fra Regione Marche, Asure e Anci con l'obiettivo principale di supportare imprese e lavoratori nello svolgimento delle attività produttive, commerciali e dei servizi nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Il protocollo condiviso e sottoscritto da diverse parti sociali è stato presentato nel corso di una videoconferenza online. Il protocollo lavoro sicurezza va a integrare la normativa nazionale sull'emergenza coronavirus con impegni calibrati alle esigenze manifestate nelle Marche, con le parti firmatarie che si impegnano a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, un'adeguata protezione individuale, un'organizzazione dei servizi misurati alle esigenze lavorative. La Regione Marche fornirà la mappatura del contagio anche tramite il ricorso ai test sierologici validanti i quali si prevedono come integrare anche il test pungidito. Altro punto cardine del protocollo è quello di dare un contributo alle imprese per i costi affrontati in merito alle misure di contenimento. Poi verrà approvato un piano straordinario di protenziamento degli organici ASUR dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. ASUR metterà a disposizione la piattaforma web Marche Prevenzione per raccogliere le segnalazioni da verificare. Sarà accessibile ai firmatari, ha detto il direttore ASUR Nadia Storti, e raccoglierà anche i protocolli aziendali anticontagio che le imprese dovranno inviare e conterà i risultati delle attività di vigilanza. Anci Marche invece sensibilizzerà gli enti locali sui servizi alle famiglie, promuovendo una loro rimodulazione in base alle nuove disposizioni. Soddisfatte anche le parti sociali firmatari del protocollo, a partire dalle segreterie generali CGL e Cisle Will, che in una nota congiunta sottolineano come il protocollo costituisce un passaggio significativo in questa fase. Sulla stessa linea anche CNA, Confartigianato e Casa Artigiani, che sottolineano come fosse naturale aderire al protocollo. Confesercenti e Confcommercio, così come Lega Coop, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, evidenziano la qualità del lavoro svolto dalla Regione.